Si chiama Continuiamo insieme per Ponte ed è la lista civica che in continuità con l'operato dell'attuale primo cittadino Rino Vairetti vede come proprio capolista e candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno nel comune di Ponte in Valtellina Federico Corona. Alle sue spalle due mandati da consigliere comunale. Primo obiettivo quello di poter portare a conclusione i progetti già intrapresi. Negli ultimi cinque anni siamo riusciti tra lavori realizzati e lavori in progettazione attualmente a recuperare fondi extra bilancio quindi oltre alle spese ordinarie per più di 10 milioni e mezzo di euro. Vogliamo continuare con quella che è la ristrutturazione degli edifici con l'efficientamento energetico. Abbiamo un'idea di rivalutare quello che è lo studio del traffico generando dei parcheggi a latere del borgo. L'idea è quella oltretutto di continuare anche su quella che è la linea culturale intrapresa, la linea dello sviluppo turistico intrapreso. Teniamo molto ai giovani, allo sport. Abbiamo l'idea di riqualificare quelle che sono le strutture attualmente presenti sul territorio come Casa Italia e il convitto. Tra i punti in programma anche la riqualificazione delle palestre di roccia presenti sul versante retico ed aerobico. Particolare importanza viene data al contatto diretto tra amministrazione e cittadino. Vorremmo istituire delle giornate, degli incontri di confronto annuali, programmati, sia per illustrare quella che è l'attività amministrativa in divenire, quindi quella che è la programmazione, che per spiegare il bilancio consuntivo a fine anno. 11 punti programmatici che abbiamo contato sul vostro programma. A questo punto, per terminare, che cosa chiedete agli elettori? Ci piacerebbe continuare a mostrare il nostro impegno e la nostra competenza, perché non dobbiamo dimenticare che questo gruppo è costituito sia da giovani che da veterani. E soprattutto i veterani sono tutte persone legate al mondo amministrativo, sia per esperienza diretta che per il loro lavoro stretto, quali dipendenti e tecnici comunali. Grazie. Grazie.